finalmente sono arrivati i protector da tanto tempo che si aspettavano avevamo già presentati è un accessorio molto utile che serve per salvaguardare l'integrità delle basi delle vostre rubazien in questo caso qui come potete vedere qui ho il protector della superior e se devo pescare praticamente a 13 metri senza l'utilizzo della micro lunga perché voglio pescare un pochino più corto se pesco praticamente con una ganna sotto braccio evito di schiacciare la base perché mi va a riempire diciamo i primi centimetri dove senza un innesso interno si creerebbe in periodo di ovalizzazione in questa maniera qui la struttura mi si mantiene molto robusta e compatta oltretutto si può utilizzare e si presta anche per inserire nell'alloggio porta rubazien sui panieri la linea di protector è stata studiata per essere compatibile con tutti i nostri modelli di rubazien sia diciamo quelle attuali sia anche quelle di produzioni precedenti potete vedere tutti i modelli disponibili e tutte le compatibilità sia sul catalogo online sia sull'integrazione del catalogo 2018 dove troverete per ogni codice per ogni protector la compatibilità per la rubazien giusta abbiamo fatto anche uno per le basi a 11,50 per le canne della linea da carpa grazie a tutti grazie a tutti